L'ultima di campionato si gioca a San Siro tra Inter e Lazio. Il 23 maggio 1971 è la data ufficiale dell'undicesimo scudetto. La Lazio prova a fare un dispetto e va in vantaggio con Nanne. È l'1-0 che farà soffrire fino alla fine i tifosi nerazzurri. Per il pareggio bisogna aspettare gli ultimi 60 secondi di gioco. L'Inter pareggia con Mazzola e l'urlo del gol già si confonde con gli inni di gloria per la conquista del titolo. Gli avversari sono lontani in classifica. Il Milan è staccato di 4 punti.